Anche in Basilicata è fondamentale procedere ad una programmazione seria di rilancio e riqualificazione infrastrutturale di tutti i comprensori sciistici al fine di un ampliamento delle strutture ricettive. La montagna lucana è un bene prezioso che va sfruttata non solo durante il periodo invernale ma durante tutto l'anno. Lo evidenzia il consigliere del Movimento 5 Stelle Leggeri che ha presentato una mozione chiedendo di istituire un tavolo tecnico permanente di coordinamento con tutti gli attori del settore del turismo invernale, azienda di promozione turistica, provincia di Potenza, comuni del comprensorio, scuole e associazioni di categoria per poter programmare in anticipo la prossima stagione turistica così come avviene da tempo in altre regioni che già hanno utilizzato i fondi europei e quelli del PNRR per far decollare il settore turistico invernale. In Basilicata dice esistono 5 comprensori sciistici e nonostante le abbondanti nevicate il turismo invernale lucano purtroppo stenta a decollare. Le migliaia di turisti arrivati anche da fuori regione sulle nostre montagne si sono trovati di fronte a piste chiuse, impianti di risalita smontati, strade non pulite e bloccate dalla neve. Inoltre la seggiovia che si trova presso il rifugio del lago Laudemio è ormai chiusa da otto anni.